Ci troviamo all'ultimo piano dell'ex ospedale Capone, quella che doveva rappresentare una delle eccellenze sanitarie della città e oggi invece un edificio che è verso in totale stato di degrado e abbandono. Sei piani per ricordarci quello che poteva essere e non è stato, macchinari del valore di migliaia di euro mai portati via, detriti sul pavimento, fialette di medicinali mai smaltiti e i segni dei lavori che dovevano restituirci il Capone e che invece non ci sono mai stati. Arriviamo all'ospedale attraversando il viale alberato che fiancheggia il fiume Fenestrelle. i fili dell'elettricità negli ex locali occupati dai generatori sono stati sradicati. Gli interni del Capone sono sospesi nel tempo, cartelle sanitarie e maschere d'ossigeno sul pavimento. Le foto dei bambini del reparto di pediatria stridono con i water di velti e i rifiuti sul pavimento. Sulle pareti scrostate tracce di muffa verde, dal soffitto pendono invece pannelli metallici. Ci troviamo all'interno di una delle eccellenze dell'ex ospedale Capone, oggi dismesso, il riparto di fisiopatologia della riproduzione che come state vedendo conserva ancora i macchinari del valore di migliaia di euro intorno ai rifiuti, fiale buttate sul pavimento e le tracce di quei lavori che dovevano essere far rinascere un'eccellenza della città e che non sono stati. Il Capone è oggi l'emblema con il mercatone di una porzione di città abbandonata a se stessa, una porzione di Avellino che sembra aver esaurito ogni speranza.